ciao fragoline nuovo video come leggete dal titolo ho fatto shopping pazzo da primark e vittoria secret e dato che ho speso un bel po tanto quasi 200 euro ho deciso di non acquistare più altre altre cose nei negozi perché sennò andavo via dal centro di arese in poche parole con più di 300 euro spesi cui ho speso sui 200 euro e allora ho deciso di non spendere di più allora dato che c'erano tantissime cose della disney che appena ho visto così tante cose della disney mi sono innamorata che volevo prendere praticamente tutto il negozio però ovviamente dato che il mio ragazzo era lì con me vi dico solo che ci ho messo due ore e mezza solo per acquistare da primark per quello che il mio ragazzo poi diciamo mi ha preso e mi ha detto andiamo perché sennò tuffe fuori tutti i soldi per cui alla fine ho preso queste cose qua che vi dico che sono due sacchetti enormi infatti non ci stavano neanche nell'inquadratura questo è il primo sacchetto e questo è un altro e vi assicuro che ho preso tantissima roba per cui adesso vi farò vedere tutta la roba indossata qua nella schermata e la roba da vicino scusate se vedete un po male in senso che è nuvoloso le luci anche se li accendo non si vede così tanto bene e in più ho acceso la luce ma secondo me si vede un po male però non posso fare niente e scusate se sentite anche il mio cane che russa ma è qua vicino a me non ci posso far niente se non lo devo cacciar via per cui io direi di iniziare da vittoria secret che sono poche cose per fortuna perché se no anche lì praticamente andavo a far fuori tutto il negozio pure lì e poi vi faccio vedere le cose da primark iniziamo ho voluto dividere il blog con lo shopping perché sono tantissime cose e non volevo che il blog durasse l'eternità comunque iniziamo da vittoria secret dato che mi sto trovando bene ho preso di nuovo l'intimo da vittoria secret ho speso 49 euro e 20 c'era il 20 per cento di sconto se ti registravi e dato che io non mi sono mai registrata in poche parole mi sono registrata e mi hanno dato il 20 per cento di sconto anche se in teoria ne ho ancora o a un altro buono del 20 per cento di sconto vi faccio vedere volevo prendere anche un profumo però i profumi costavano più di 70 euro e già ho speso anche fin troppo loro alla fine ho deciso di non di non prendere più niente di prendere solo l'intimo che me l'hanno dato in questo sacchettino bello rosa allora se prendevi tre paia di mutande avevi lo sconto e in poche parole andavi a spendere 35 euro 90 se prendevi 3 slip io ho preso questa con il pizzo bianco poche parole fatto così calcolate che ogni mutanda costa 16 euro qua non so perché non c'è cosa vabbè io ho preso una l perché le mutande sono larghe per cui ho preso una l e ho preso questo che mi piaceva così molto carina poi ho preso la solita normale quella con la scritta vittoria secret perché mi piacevano tanto e dato che lo rovinate l'ho voluto prendere un altro paio di questo infatti 16 euro e 90 l'una però dato che c'era la promozione prendevi tre e pagare 35 euro questa normale semplicissima poi ho preso questa qua diversa sempre con la scritta vittoria secret mi avvicino un po perché tanto le mutande non ve le posso far vedere indossate una è fatta così che è blu non so che colore vedete voi ma vi assicuro che blu perché l'ho presa io e per finire questa che una dato che hanno presi tre e una hanno presa separata in poche parole una me l'ha fatta pagare 13 euro di qualcosa qui adesso lo sconto mi ha messo un po così 13 euro in qualcosa ma sempre perché una di queste costava 16 euro 90 ma per farvi capire ho preso questo colore fatto così in pizzo volevo prendere il pigiama però il pigiama costava 160 euro allora poi ho detto se se prendo solo quello ciao non vado da nessun'altra parte per farvi capire comunque si costano però io con l'intimo mi sono mi sto trovando bene perché avevo già preso tre paia di mutande infatti ve l'avevo già fatte vedere due anni fa e dato che ho voluto di nuovo ritornarci alla fine ho ripreso di nuovo le mutande ma diverse e questo è stato vittoria secret poi da primark ho speso 127 euro vi dico solo che per far prima i prezzi o ve li scrivo di fianco o se ci sono nel cartellino attaccati ve le dico così facciamo più veloce iniziamo da questo che c'è poca roba vado velocissima perché se no non finiamo più e il video dura l'eternità allora allora vi faccio vedere per prima cosa ho preso dei regalini per mia nipote che nascerà il 30 di ottobre per cui dato che diciamo che la mia prima nipotina piccola 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 che nascerà a fine ottobre io ho preso dei regalini per cui io ho preso questo che è bellissimo che suona praticamente mini e dovrebbe essere di 0 3 mesi perché c'erano le taglie però anche se un giochino questo va bene per i bambini appena nati io ho preso questa che è costato 6 euro scusate se c'è la luce ma ho preso questo qua questo regalino qua poi sempre a mia nipote io ho preso questo vestitino di 18 24 mesi con le calze abbinate scusate se non ve le posso aprire ma dato che è un regalo per mia nipote ve lo faccio vedere così questi l'ho pagati 12 euro vestitino e calze 12 euro ci sono delle bellissime cose da primark specialmente per i bambini piccoli comunque ho preso questo che è stupendo mi sono innamorata di queste cose e questo che è una tutina 6 euro questo è di 3-6 mesi ovviamente preferisco prendere cose grandi perché se poi la bambina dopo è troppo grossa preferisco che gli vanno per cui ho preso un'età più grande però questa credo che la può mettere subito invece l'altro la può mettere tra un annetto comunque questo con la scritta grigia e i pantaloncini grigi che sono troppo belli mi è piaciuto e io ho preso questo qua poi dato che non c'entra niente con primark vi faccio vedere un altro regalino che io ho preso così almeno ve lo faccio vedere e impacchetto tutto io ho preso questo qua però questo gliel'ho preso al bennett è praticamente un orsetto a forma di cagnolino con la copertina e allora non ve l'ho detto ma mia nipote si chiamerà Chiara e allora io ho preso anche questo qua questo l'ho pagato 12 euro così almeno ve l'ho fatto vedere e posso diciamo fare impacchettare il regalo poi andiamo veloce allora per fare veloce ho tirato dentro tutta la roba comunque ho preso mi sembra 6 paia di leggings neri per di più per il lavoro però faccio sia lavoro che diciamo mi metto per andare in giro allora i leggings costano 3,50 euro io porto un XL sono semplici fatti così semplici neri e ho preso 1 2 sì dovrebbero essere 3 paia dovrebbe essere qua 3 4 5 e l'altro che sarà nell'altro sacchetto comunque questi qua sono tutti leggings e vi assicuro che questi qua io mi sono trovata bene e loro li ho presi praticamente stavo prendendo tutto il negozio per farvi capire questi sono tutti leggings neri li ho presi neri perché io la maggior parte li uso per il lavoro e poi ho preso un altro leggings però blu questo però mi è costato 5 euro adesso adesso non so come si tira via sto cosa ma vabbè sono blu normali con la vita alta ok facciamo così con la vita alta per cui ho preso i leggings blu poi ho preso la gonna allora questa gonna costa 13 euro l'ho preso perché era un po' particolare e poi mi piaceva il colore che è praticamente un marroncino che ha anche tipo questo questo dettaglio diciamo che mi va fino alle ginocchia però tanto adesso lo vedete indossata io ho preso una 46 io ho preso una 50 di taglia però qua c'è scritto 46 perché le taglie di primark non sono italiane per cui dato che non è italiana per loro la 46 è una 50 comunque ho preso questa diciamo che da vedere sembrava molto molto carina poi quando l'ho indossata così così infatti adesso vi faccio vedere la clip non lo so non è che mi sta così tanto bene però vabbè dato che non ho gonne di questo colore ho comprato questa ed è abbastanza carina io quando compro le cose all'inizio vedo che dico uh che bella no la voglio no poi costa poco la compro poi quando vengo a casa che provo le cose certe cose non boh su di me non è che mi piacciono tanto e vi dico questo perché io quando vado nei negozi io non provo le cose in camerini perché uno con la fila che c'è non mi faccio un'ora di fila perché lì facevi un'ora di fila solo per provare una cosa e sinceramente preferisco prendere e portare a casa poi se non mi va o se non mi piace prendo e la vendo il doppio del prezzo perché tanto alla fine le persone fanno così poi dipende se lascio il cartellino ovviamente non la vendo al doppio del prezzo la vendo al prezzo che io l'ho pagata io faccio così poi ho preso questo che sono dei leggings con il pelo quando le ho viste ho detto no poi c'è scritto tocca qui quando metti la mano c'è il pelo dentro ed è talmente morbido che ho pensato no questi qua sono ideali per per l'inverno che tengono c'è caldo infatti si chiamano velvet plush io vabbè l'inglese tanto eh comunque questi 7 euro è una LXL sono così adesso li apriamo insieme così le vediamo e dato che le ho viste che mi mi sono piaciuti ho detto no li voglio per cui ovviamente poi ve li farò vedere anche indossati comunque sono così sono calze con il pelo dentro guardate no vabbè talmente morbido cioè è fatto così nero con cioè sono semplici l'unica cosa che e sono pesanti ma perché hanno il pelo dentro ed è una cosa cioè no vabbè poi vi farò sapere nei vlog come come sono se sono se tengono caldo se sono ottimi ve lo dirò comunque ho preso sia questo che tipo panna che adesso non so dove sono però li cercheremo insieme nell'altro sacchetto perché il primo sacchetto l'abbiamo finito manca questo ho preso le ciabatte della disney adesso vi farò vedere cosa ho preso io della disney volevo comprare le scarpe poi mio il mio ragazzo si è lamentato e fa ma cosa te ne fai poi si rompono bla 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 non me le fate comprare alla fine ho vinto io e ho comprato le ciabatte queste qui morbidissime di stitch che non mi veniva il nome queste qui le ho pagate 5 euro sono morbidissime sono fatte così infatti c'è la scritta stitch e sono talmente morbidi che cioè guardate che che fighe sono sono troppo belle cioè no vabbè non so quante volte lo dirò poi ho comprato queste ciabatte dato che le mie si erano rotte ho preso queste ciabatte io porto 38 39 solo che lo provate infatti adesso vi farò vedere la clip che mi esce un pochettino il piede però per fortuna li metto per casa e ho sbagliato la taglia dovevo prendere 39 e 40 per quello che io prendo sempre di numeri più alti perché sinceramente prendere un 38 39 e non mi vanno per cui io inizierò anche già a portare un 40 e queste sono troppo belle cioè con il pelo dentro sono morbidissime e hanno praticamente stitch sono praticamente della disney quella di stitch l'ho presi così perché quelli di topolino non è che mi piacevano tanto e in più non aveva il pelo perché ho preso questi che cioè ve l'ho detto se andate da primark vedete le cose della disney comprate tutto e di tutto e di più poi ho comprato sempre della disney anche se volevo prendere la tuta volevo prendere tutto ma il mio ragazzo non mi ha fatto più comprare più niente allora questa felpa che è costata 10 euro allora è rosa con la scritta disney praticamente mini non so se la vedete però è semplice con la scritta e questa è una taglia l ho preso una l perché la hcl secondo me era troppo grande infatti appunto dipende dalle taglie e da come è fatto il modello se il modello è grande è normale che io prendo una taglia più piccola e non una taglia più grande comunque ho preso questa qua che è troppo carina e niente la vedete indossata vado più veloce perché c'è anche tanta roba che vi devo far vedere non so questo video quanto durerà ho preso i miei mitici cotoni per lo smalto questi qui pagati 75 centesimi ne ho presi due perché l'ho fatti fuori tutti e mi mancavano per cui ho preso questi qua mettiamoli dentro poi ho preso la gonna adesso la faccio vedere così così ma tanto poi la vedete indossata gonna nera perché c'era solo di questo colore la mia taglia perché era praticamente finita c'era solo c'è solo una c'era questa 3 euro e dato che costano poco le gonne ho preso questa qua 3 euro che era l'unica taglia che c'era ovviamente sempre una 50 poi andiamo avanti ecco vi dicevo questo come vi dicevo è tipo panna di colore però è la stessa in poche parole cambia che il pelo c'è si vede adesso con la luce si vede poco però è morbidissimo adesso vabbè non sto lì a aprirlo ma vi assicuro che è morbido se andate da primark comprateli perché secondo me questi tengono molto caldo e ho preso due paia sempre il prezzo è sempre quello però credo che l'ho sbagliato la taglia mi sono accorta adesso beh non proprio questa è una itzelle 2 itzelle per cui proverò e vedrò e poi vedete voi nella clip quale è giusta la taglia perché adesso che mi sono resa conto credo che ho sbagliato le taglie cioè ho preso una itzelle nera l itzelle nera e invece questa che non mi sono accorto ho preso itzelle 2 itzelle per cui io spero che non è grande però vabbè tanto la vedete indossata comunque dato che non c'era allora di questo colore c'era solo questa taglia qua per cui l'ho presa però pensavo che c'era solo elizelle non lo so vabbè lasciamo perdere e per finire meno male spero che questo video non è durato l'eternità per finire ho comprato questo maglioncino bello morbido questo maglioncino che è tipo un verde adesso non lo vedo bene perché non c'è la luce e tra quella lì che mi mi spalafrescia diciamo comunque questo maglioncino carino morbido morbido fatto così con queste maniche e va giù così poche parole questo maglioncino l'ho pagato 12 euro e ho preso sempre una izzelle che è praticamente una 50 pagato 12 euro è molto morbido perché si sente che è morbido dovrebbe essere lana perché qua non c'è scritto che cos'è ma da secondo me è lana perché è molto molto carino e morbido questo colore io non l'ho mai avuto e dato che volevo tanto lo vedete indossato e vediamo se mi sta bene ma dato che voglio cambiare un po' e dato che non sapevo quanti maglioni ho perché farò la collezione dei vestiti ho voluto prendere solo questo però ce n'erano tantissimi ed erano veramente belli ripeto se andate là c'è il mondo io lascerei almeno uno stipendio solo mio per andare da Primark perché vi assicuro che la roba la qualità è buona perché da quando io vado da Primark i vestiti e tutte le altre cose sono ottime per cui io ve lo consiglio se volete andate al negozio perché le robe sono spettacolari specialmente della Disney e niente questi sono stati i miei acquisti spero che vi sono piaciute fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più e se volete altri video di questo genere sullo shopping oppure se volete un altro video di Primark che però credo che sarà per l'anno prossimo perché non era l'unico giorno che è stato mercoledì l'unico giorno che diciamo diciamo che potevo andare solo quel giorno lì perché io da adesso in poi dato che sto lavorando tutto il giorno per me è molto difficile andare lì dato che il tragitto tra dove abito io e Arese ci vuole più di un'oretta in macchina per cui ci vado solo una volta all'anno però se riesco a andare due volte all'anno ancora meglio sinceramente perché ogni volta che vado in questo negozio lascio veramente tutto il mio stipendio comunque detto questo spero che questo video non è durato l'eternità fatemi sapere se anche voi acquistate da Primark o da Victoria's Secret detto questo noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina e seguitemi su Instagram che lì sapete prima quello che faccio e detto questo dato che non ve l'ho detto prima dell'inizio del video di sicuro che mi sono dimenticata io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao